Abbiamo ribadito al Presidente della Repubblica che Fratelli d'Italia farà del suo meglio per dare all'Italia un governo in tempi rapidi. Gli italiani hanno bisogno di qualcuno che affronti i loro problemi e noi vogliamo occuparci di questo. Chiaramente a causa di una legge elettorale irresponsabile, lo voglio dire, lo voglio ribadire perché Fratelli d'Italia non ha votato l'attuale legge elettorale, è stato uno dei pochissimi partiti che non l'ha votata. A causa di una legge elettorale irresponsabile oggi il cammino è complicato dall'assenza di una maggioranza parlamentare, ne siamo perfettamente consapevoli. Ciò non toglie che lo scorso 4 marzo quasi il 40% degli italiani ha scelto di dare la sua fiducia ai partiti di centrodestra e questo significa che, è la posizione che abbiamo portato al Presidente della Repubblica, se si vuole rispettare la volontà popolare non si può che partire da qui. Noi riteniamo che il compito di tentare la formazione del nuovo governo aspetti al centrodestra. Noi non siamo disponibili, di Fratelli d'Italia non è disponibile a parlare d'altro che non sia, far parte di altro, che non sia un governo a trazione centrodestra, significa un governo che abbia come guida un esponente del centrodestra, secondo le regole che ci siamo dati internamente, che voi conoscete bene quell'incarico, abbiamo detto al Presidente della Repubblica, crediamo vada conferito a Matteo Salvini, che è il segretario del partito che all'interno della coalizione ha avuto più voti, ma significa anche che non siamo disponibili a far parte di un governo che non si ottenga, che non mantenga compatto il centrodestra.